Su app e videogiochi ci sono numeri, colori e simboli. Ma cosa sono? Si tratta del PEGI, e cioè Pan-European Game Information. Il Pan-European Game Information è, da 2003, il metodo di classificazione valido su quasi tutto il territorio europeo usato per classificare i videogiochi attraverso 5 categorie d'età e 8 descrizioni di contenuto. La classificazione in base all'età conferma che il gioco è adeguato agli utenti di una determinata età, quindi il PEGI non esamine il livello di difficoltà. E' da ricordare inoltre che in Italia tutte le app sono vietate a chi è minore di 14 anni e in alcuni casi anche 16. Sul sito dedicato al PEGI e al link che segue è possibile trovare il significato delle pichette e gli scrittori di contenuto con tutti i dettagli. Noi non cadiamo nella rete.